Grazie per questo gradito invito e anche grazie appunto del tema che mi è stato attribuito privacy e ricerca medica che è ovviamente per chi fa bioetica un tema di grande interesse perché il tema che riguarda la privacy e la ricerca medica intercetta il tema del consenso che nell'ambito della ricerca medica ha in realtà come vedremo una duplice accezione e che va mantenuta e distinta. Prima di dire però le cose principali sul consenso perché naturalmente ho dovuto selezionare gli argomenti per il tempo che viene dedicato vorrei comunque richiamare il fatto che il GDPR non parla di ricerca medica parla in maniera molto generale di ricerca scientifica tanto che per poter diciamo ricondurre questo concetto molto generale ad un concetto più specifico era intervenuto il working party 29, l'ex working party 29 adesso trasformato in comitato europeo per la protezione dei dati che aveva sottolineato come ai sensi del GDPR per ricerca scientifica e dentro questo poi ricade ovviamente anche la ricerca medica vada inteso una ricerca che ha alla base un protocollo di ricerca un progetto di ricerca che quindi verrà valutato da un comitato etico che sarà redato secondo standard metodologici che riguardano la singola diciamo il singolo settore e che rispettano standard etici di alto di alto livello. Quindi questo è un primo aspetto importante il tema della ricerca scientifica così come la tratta a livello di principi il GDPR regolata anche dalla convenzione 108 che aveva menzionato anche prima la nostra direttrice e infatti il pacchetto diciamo di revisione della convenzione e del GDPR sono andati sostanzialmente insieme ritroviamo lì quindi anche per quei paesi che non fanno parte dell'Unione Europea dei principi che tendono ad armonizzare le tematiche relative alla ricerca scientifica. Ovvio che nell'ambito della ricerca scientifica e quindi anche nell'ambito della ricerca medica viene mantenuto quel bilanciamento di interessi importante anche se il GDPR poi ha aperto un pochino a favore dei ricercatori su richieste pressanti da diversi anni ma chiedendo in contropartita diciamo tutta una serie di garanzie aperto sulle tematiche del consenso alcune deroghe al consenso. Il bilanciamento di interessi però rimane lo stesso cioè quello che è meglio espresso dall'articolo 2 della convenzione di Oviedo secondo la quale l'interesse e il bene dell'essere umano devono prevalere sul solo interesse della ricerca e della società. Questo è una cosa che sembra scontata ma non lo è perché la troviamo costantemente ribadita e io ho indicato qui i due documenti su cui diciamo ho ulteriormente approfondito le questioni che presento in questa breve relazione cioè il parere 3 2019 del Comitato Europeo per la protezione dei dati relativo adesso dirò poi che cos'è all'interazione tra il regolamento sulla sperimentazione clinica e il regolamento GDPR e ancora un ancora più recente documento che sono le linee guida numero 3 del 2020 che riguardano addirittura la ricerca scientifica proprio nell'ambito della pandemia. E qui vengono ribaditi tutta una serie di aspetti tra cui questo aspetto centrale di come deve essere interpretato il bilanciamento degli interessi e che comunque i diritti del partecipante o dell'interessato non devono mai essere diciamo subordinati al solo interesse della scienza e della società. Questi sono aspetti molto importanti ma andando velocemente verso il tema se possiamo diciamo così andare alla slide successiva perché io non ho il controllo. Ecco in tema appunto di ricerca scientifica e ricerca medica dove vengono trattati ovviamente dati relativi alla salute che sono ben definiti dal GDPR così come vengono trattati dati genetici che anch'essi sono definiti dal GDPR ma rispetto ai quali non entro nel merito perché è una questione anche molto complessa. Comunque c'è stata questa definizione ben chiara e ben prevista su richieste pressanti che erano state fatte per anni insomma che fosse inserita questa definizione anche in questo tipo di normativa. Nell'ambito della ricerca scientifica e nella ricerca medica in particolare quando si parla di consenso bisogna stare attenti perché abbiamo due accezioni e questo diciamo ha un'espressione già dentro l'articolo 7 del GDPR che a un certo punto ci dice che se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni queste questioni devono essere chiaramente distinte. Ora distinte in che senso? Nell'ambito della ricerca scientifica e medica in particolare noi non sottoscriviamo solamente un'autorizzazione all'uso dei dati ma sottoscriviamo anche un altro tipo di consenso e chiederei di andare alla slide successiva che è regolato appunto dal regolamento 536 del 2014 che è un regolamento che è entrato in vigore in quel periodo non è ancora completamente operativo perché non è ancora stato istituito il sistema centralizzato di informazione ma l'EMA ha diciamo come dire pressato perché questo avvenga e il regolamento diventi operativo alla fine di questo anno tuttavia il comitato diversi comitati e diversi diciamo organizzazioni a livello europeo hanno sottolineato più volte che la normativa relativa al consenso presente nel 536 debba essere utilizzata per interpretare comunque appunto le disposizioni relative al consenso. Quale consenso ex regolamento 536? Il consenso informato per la partecipazione a uno studio che è una cosa diversa appunto dall'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del regolamento europeo per la protezione dei dati. Questa distinzione è molto importante non solo perché come vedete nella slide il consenso informato per la partecipazione a uno studio garantisce dei diritti fondamentali che sono il diritto alla dignità umana che era stato già richiamato prima da professor Vigevani per altra questione dell'integrità della persona e all'autodeterminazione ma e invece l'autorizzazione al trattamento dei dati garantisce tutela del diritto alla privacy inteso come protezione dei dati. Abbiamo diritti fondamentali diversi sebbene non cioè siano interrelati ma comunque sono diversi sono diversi. Abbiamo quindi questa tipologia di consensi che hanno un riferimento diciamo così costituzionale diverso di diritti fondamentali diversi ma che ai sensi dell'articolo che ho citato prima del GDPR devono anche essere mantenuti materialmente distinti e questo è un aspetto che sebbene venga ribadito molto chiaramente anche quei due documenti che vi ho indicato prima in cui si possono approfondire tutte queste questioni spesso ancora nella prassi non avviene. Se andiamo alla slide successiva volevo farvi vedere esattamente cosa si intende per materialmente distinti. Il consenso informato alla partecipazione alla ricerca ex regolamento 536 diciamo così conterrà una parte di informativa che deve ben indicare tutte le caratteristiche della ricerca che viene messa in atto, i motivi per cui si chiede a un determinato soggetto di partecipare, le garanzie rispetto alla sua partecipazione che richiederà un momento autorizzativo autonomo separato da questa informativa e che vedete sulla parte destra della slide. Non può essere mischiato questo tipo di consenso ex regolamento 536 con quello che vi faccio vedere nella slide successiva che è anche l'ultima che è quello l'autorizzazione al trattamento dei dati che contiene delle informazioni diverse perché anche i diritti fondamentali che tutela sono diversi e quindi conterrà le informazioni relative ai dati sulla salute che vengono utilizzati, se vengono utilizzati dati particolari, se ci sono le condizioni per utilizzarli ad esempio dati genetici, chi sono il titolare del trattamento, responsabile del trattamento laddove necessario il DPO e quali diritti possono essere esercitati e come esercitarli appunto da parte dell'interessato. Ora quindi devono essere mantenuti materialmente distinti anche perché come emerge dai due documenti che vi ho indicato nella prima slide la separazione tra questi due documenti, tra queste due tipologie di consenso rileva in termini di revoca del consenso quindi impatta sul regime di revoca del consenso perché a seconda che la revoca avvenga sulla base del articolo 28 del 536 ci saranno certe caratteristiche per i dati che sono stati utilizzati e certi esiti o sorti per i dati che sono stati utilizzati fino a quel momento diversamente se la revoca avviene sulla base appunto del GDPR e inoltre questa distinzione tra i due consensi rileva da un punto di vista giuridico anche per quella diciamo presunzione di compatibilità con le finalità iniziali quando che è diciamo prevista dal GDPR e quando i dati della ricerca vengono utilizzati non a fine primario ma a fine secondario cioè al di fuori del protocollo di ricerca. Concludo con due notazioni di questo tipo, una ancora sempre relativa al GDPR perché io avevo detto all'inizio che appunto ci sono stati eh alcune aperture rispetto eh al consenso e ne dico solamente una cioè il GDPR consente che in caso di dati personali che non sono eh ottenuti direttamente dall'interessato eh in via generale richiede che comunque all'interessato sia data l'informazione sia data informazione del trattamento che avviene in tempi abbastanza ehm diciamo ristretti. Nel caso però dell'utilizzo di questi dati in ehm per la ricerca medica è consentito eh laddove ci siano le garanzie di cui all'articolo ottantanove cioè garanzie eh di carattere ehm eh tecnico organizzativo e laddove ci siano delle condizioni molto specifiche che non ci sia l'informativa all'interessato. Questa è stata un'apertura abbastanza importante. Quali sono i casi in cui questo può avvenire? Quando risulta è impossibile per i ricercatori diciamo reperire gli interessati e questa è un'impossibilità intesa in senso assoluto però non esistono gradazioni di impossibilità. Questa è l'interpretazione che ne ha dato il comitato ehm per la europeo per la protezione dei dati. C'è uno sforzo sproporzionato che viene richiesto ai ricercatori eh di eh che e che quindi può inficiare diciamo gli esiti della ricerca e infine si rende impossibile o si pregiudica gravemente il eh il conseguimento della finalità di ricerca. Ora il rispetto delle della normativa sulla privacy e eh della normativa sul consenso da un punto di vista giuridico non è l'unico elemento che viene valutato nell'ambito di un ehm cioè in relazione a un protocollo di ricerca da da un comitato etico. Questi sono requisiti fondamentali e importanti ma la valutazione è molto più complessa richiedendo diciamo così eh il rispetto di standard etici che sono poi a loro volta definiti da altre normative eh sia di soft law che eh che di hard law e che fanno parte diciamo dell'evoluzione etica eh della riflessione etica sul tema della sperimentazione clinica degli studi clinici e della ricerca scientifica e medica in particolare. grazie grazie grazie